Con l'arrivo del commissario si apre un capitolo nuovo, un capitolo nel quale lavoreremo con determinazione per avere la massima chiarezza, la massima trasparenza, in modo particolare su quelli che devono essere i criteri per valorizzare il patrimonio del Pio Albergo Tribulzio, in modo che attraverso la valorizzazione del patrimonio si possano continuare a mantenere le rette basse e una buona qualità di servizi così come ora. La valorizzazione del patrimonio e quindi gli affitti di mercato, affitti congrui, consentono proprio delle politiche di servizi che il Pio Albergo Tribulzio da sempre porta avanti, ma che deve poter continuare a portare avanti con determinazione e con sempre maggior successo. Oltre a questo naturalmente l'arrivo del commissario consente anche di guardare con fiducia la possibilità di avere donazioni, di avere come sempre avuto il Pio Albergo Tribulzio, di avere chi si fida del Pio Albergo Tribulzio e quindi aiuta il Comune e la Regione che sono impegnati nella gestione, anche nel supporto economico, ad avere dei fondi in più. Grazie.